Sono il barone di Tandonio Colucci, grande ufficiale della Repubblica Italiana, fondatore e presidente del gruppo Plastic Puglia. Ho il piacere e il grande onore di poter dire che la mia azienda progetta, produce e commercializza sistemi completi per la fertilizzazione di precisione. I nostri sistemi brevettati Aquatape, Aquadrop, Goldrip ed Aquapress sono tecnologicamente più evoluti per una crescita migliore delle coltivazioni, sia in campo aperto sia in serra. Di recente abbiamo ideato il software Aquapro che gestisce anche da casa gli impianti di comunicazione con un semplice smartphone. Il gruppo Plastic Puglia da oltre 50 anni rimane leader per lo sviluppo agricolo.